Possiamo, possiamo. Una tela grandissima di 5 metri e 30 per... Io lascio la parola alla dottoressa Rita Cavaniere, il nome più complesso, che ho detto Rita Raffaela Cavaniere, con la quale Don Angelo era già preso i miei accordi per un possibile preventivo per il restauro della terra, insieme a Don Angelo Amico che anni fa l'abbiamo richiesta, perché è amica anche di Don Angelo Amico che tutti abbiamo chiesto.